Non campano in casa. Passo, prendo la munizione e mi vado. Chi è? Sto scherzando la porta. Un bestagnare, un bestagnare, un bestagnare, un best... Dio Barry! Raga mi sono sbagliato un po'... Batteria leggera! Avanza verso di voi! Abbiamo spezzo porta! Da questa! Eh, da le puni! Cazzo dobbiamo andare! Dalle puni! Ciao, Arstronzi! Oh no! Oh mio Dio! Adesso solo io! Chi invaderà i polli? Tutte le persone che ti sto vedendo in questo momento. Tu mi stai guardando un pollo. Dove l'hai messo, Luca? Dove l'hai messo? Parla, stupido pollo. Mi spara da vista, chi ci viene? Oh cazzo, i nemici! Oh mio Dio, spara, Barry, spara! Spara, Barry! Spara! Io sono già sceso! Sono già sceso! Non c'è su voi adesso! Barry! Porca proia! Che cosa sta succedendo? Non lo so! Ma cazzo! Tenente nemico! Uno io l'ho ammazzato! No, l'altro è stato un po' aspetto. No, l'altro è stato un po' aspetto. Ok, l'altro l'ho ammazzato! Oh merda! Oh merda, sono troppi! Oh merda! Scusa! Non mi aiuto! Cazzo, che cosa hai messo? Pucca puttana! Mi sono venuti con il canto assato. Oh mio Dio! Perché lo farei il soldato che libera tutto? Oh merda! Su! Che cazzo è da questo? Le skill! Cazzo! E se... E tu guarda, che cazzo! Cioè, ho perso la linea e vedo... E la chat aperta di Peter! Che è un posto di merda! UAP! Scuso in solo! Ma ci sparano! Ma ci sparano! Oh mio Dio, com'è tutto malissimo sto questo! Addio, mondo! Una cosa sicuro! Mi fanno male! Mi sono andato qui insieme? No! Stiamo sul tetto, quei bastardi! Cazzo, quanti ci sono stati stranati in bocca! Aiutavolo a parlare! Voglio solo... Oh, porca droga! Molto malissimo! Oh, madre! Grande F, Davide! Ma che ha detto? Oh, porca droga! Che cazzo gli ha fatto da un RPG in bocca! Ma questo era un fader, no! C'è, toglie! Questo è! Oddio, mi spavano! Che gusto! Oh mio Dio, headshot! Non posso cambiare le armi! Perchè? 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 Headshot! Headshot con RPG! Porca droga! Questo fede! E' un rapporto dietro! Dove è l'altro di subito? Ah no! Forse Luca! Precare! Care! Care! Ci penso io! L'MG è mounted in low! Perchè... Porca droga! Samir! Aaaahh! girls go! Oh, porca droga! oh porca broia oh porca broia così vi ripetete la vita eh? è morto o no? tango a terra ah c'è un tizio con la minican raga qui ma non è morto manco col bombardamento beccati questo ecco la stronzata del giorno è finita ma quale giorno se è notte sono le 8 e 19 non mi fotte oddio provatore